ciao ragazzi benvenuti al video tutorial del brano al circo suoneremo quattro battute alla volta aumentando gradualmente la velocità analizziamo prima lo spartito ecco allora facciamo un'analisi della prima battuta abbiamo tutte semi minime che valgono un quarto all'una quindi abbiamo un do un sol un altro sol e poi un do e si fa così do secondo buco tappato più buco posteriore tappato premete sempre leggermente in modo che sentite il buchino sotto che sia ben tappato quindi abbiamo un do poi un sol ancora un sol e poi un do ricordarsi è mano sinistra seconda battuta abbiamo un si semi minima un la semi minima e un sol minima che vale due quarti terza battuta uguale si la e sol quarta battuta abbiamo un do semi minima un la semi minima e un sol minima proviamo a suonare la metrono il tempo ai 4 quarti la velocità originale del pezzo 140 bpm inizieremo a 95 per poi aumentare gradualmente uno due tre quattro ok questa è la prima velocità aumentiamo a 120 ok e lo portiamo adesso la velocità originale del pezzo che è 140 ok passiamo alla dalla quinta alla ottava battuta benissimo allora adesso analizziamo la quinta battuta abbiamo ancora semi minima do sol sol do uguale alla prima battuta poi si la sol ancora uguale alla seconda e la settima battuta è un si sol la si e poi chiude l'ottava battuta con due do minime ok quindi quinta battuta sesta settima ottava lo facciamo a metronomo dalla quinta all'ottava battuta a metronomo a partire da 95 passiamo ora a 120 e infine alla velocità originale del pezzo che è 140 benissimo andiamo avanti analizziamo la seconda parte del brano musicale le figure musicali sono sempre le stesse la semi minima che è la pallina piena con la stanghetta e vale un quarto e la minima pallina vuota con la stanghetta che vale due quarti quindi è battuta 9 abbiamo un la do do la battuta 10 un sol do do battuta 11 la do si la battuta 12 sol sol ok proviamo ad eseguirla con il metronomo a partire da battuta 9 aumentiamo il ritmo a 120 infine portiamo il metronomo a 140 la velocità del brano musicale ultime quattro battute e abbiamo finito il brano musicale Quindi a partire da battuta 13 abbiamo un LA, DO, DO, LA, battuta 14, SOL, DO, DO, battuta 15, LA, SI, DO, LA e battuta 16, SI, SI. Proviamo ad eseguirle con il metronomo. Da battuta 13. Aumentiamo il ritmo. E infine la velocità originale del brano musicale. Finito. Bene, adesso proviamo a fare tutto il brano in tre velocità. A partire da 95, era la velocità di partenza, e partiamo dall'inizio fino alla fine. Ok. Grazie. 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 Aumentiamo la velocità a 120. Aumenti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero vi sia stato utile e arrivederci a presto. Ciao.